aspetta un minuto chi sei? Christian Plus oppure poi chiamami come cazzo vuoi ok ragazzi bentornati a questo nuovissimo video sempre dal vostro niggas preferito forse finalmente mi sono svegliato a fare altro che non sia reaction oppure si che non sia reaction diciamo che voglio portare altri contenuti diversi da quelli che porto facciamo solo due video alla settimana 3 è poco tempo libero ma con il tempo libero spero che questa non sia l'unica perchè non è non è il tempo è denaro, il tempo è costoso comunque come leggete dal titolo faccio un po' di reaction di dissing perchè ha detto vai portiamo questo nuovo progetto questo nuovo content quindi sotto i commenti commentate secondo voi quale qual dissing tra rapper devo fare la reaction ovviamente ringraziamo Antonio Peralta che ci ha dedicato il video quindi andiamo a reagire nel suo video quindi andate a iscrivervi al suo canale un ringraziamento come minimo come minimo la devo ringraziare e ricordo di seguirmi su Instagram cosa che è una cosa che non ho mai chiesto mai 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 fatto se questa cosa che porto vi piacerà come ho già detto sotto i commenti potete consigliarmi il prossimo video da fare anzi il prossimo reaction dei dissing da fare e niente vi ringrazio tantissimo e spero di fare tantissimi altri video così ho già detto e di essere il nero che sono perchè essere il nero che sono vuol dire che se dentro di me sono veramente nero cioè sono talmente così bello che sono anche nero cosa volete di più niente altro like, commenta basta andiamo al video di oggi GGGGGG Taz Supreme vs Anna Pepe Antonio Perarta come ho già visto molto spesso ai fan capita di paragonare tra loro diversi artisti creando quindi un dibattito in cui si discute su chi effettivamente sia il migliore tra i due benvenuti in una nuova serie in cui analizzeremo personaggi di spicco della scena hip hop italiana le loro carriere i brani e tanto altro in maniera oggettiva senza però decretare chi effettivamente sia il migliore tra i due sarete voi a sceglierlo nei commenti non si può non iniziare dunque con Taz Supreme e Anna che sono tra gli artisti che hanno avuto maggiore visibilità sia a livello musicale sia a livello mediatico nell'ultimo anno Anna sicuramente ha avuto un impatto devastante sulla scena italiana e lo dimostra il fatto che sia l'artista più giovane in Italia ad aver fatto il mio questo è vero però c'è da dire un'altra cosa che Anna ci beccava nel bendo sopra il booster cioè secondo me dopo dopo Anna dopo l'ultima canzone tipo booster non so come non ricordo più come si chiama una canzone non abbia avuto comunque così tanto impatto ha fatto una canzone con due pequeini è vero però in confronto diciamo che Paragone Taz Supreme c'è tanta differenza cioè a livello musicale raga a livello proprio di conoscenza e a livello di evoluzione musicale perché Anna 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 con una song con mille con mille ovviamente no no non sto giudicando però Anna con una song e con mille remix si si ha fatto la sua strada ovviamente nessuno giudica nessuno migliora nessuno però però con una song e con mille remix c'è c'è da fare di più c'è ve lo dice un filosofo secondo me si può ancora attecchire di più non so come dire attecchire secondo me potrebbe spaccare di più oh è giovane ha tanta strada da fare eh quindi io spero veramente di vederla ancora più cioè spaccare spaccare però secondo me non si può non si può paragonare Taz Supreme a lei eh rispetto un disco d'oro attualmente è sotto contratto con la Universal e parebbe aver ricevuto gli apprezzamenti di rapper importanti come Sfere Basta o Tony F in passato avrebbe pubblicato due canzoni con Emis 24 7 e Holidays e un pezzo solista Baby ma la sua hit è ovviamente Bendo il pezzo ha spopolato in Italia ma è stato anche ecco era Bendo e ecco capite? cioè secondo me Bendo è uscito proprio nel momento in cui TikTok stava spaccando no? proprio nel momento in cui TikTok stava veramente spopolando quindi c'era il TikTok e tutto quindi si spaccava comunque sì onestamente penso che dopo Bendo non ci sia altro hit di Anna eh se devo essere sincero eh oggetto di non poche critiche inoltre la traccia è stata remixata più volte e ha visto come ospiti sulla base pezzi grossi come Jamie Tice e Madman Maxwell o Rich The Kid inoltre soprattutto grazie alla visibilità datagli da questo pezzo Anna è stata invitata come ospite in diverse tracce come ad esempio il remix di Twerk di Mambolosco e Borboro in biberon della DPG con Drafgold e in asta la vista remix con Gali inoltre è vero vero raga mi sono dimenticato che comunque è apparso tantissimi è apparso con rapper comunque importanti eh Jimmy Tice Gali quello di Gali è stata una sorpresa Gali e il resto Mambolosco i remix però comunque diciamo che come diciamo come pezzo cioè come qualcosa di suo solo Bendo secondo me spaca a differenza di Anna i featuring di Ta Supreme sono tantissimi e tutti con artisti importanti in Italia come ad esempio Marrakesh Gemma Mad Salmo Gali Lazza o Tedua importanti collaborazioni poi sono anche alli fuori dalla scena rap come ad esempio quelle con Mahmood e con Koetz inoltre rimanendo nel 2020 non è da dimenticare la sua apparizione in uno dei dischi più attesi dell'anno Bloody Vinyl 3 parlando poi a livello di featuring internazionali certamente non sia un nome di spessore elevatissimo come quello di Rich The Kid ma non passa sicuramente inosservata la traccia di Lem con Lucen e Yakuza e sua sorella Mara Sattei sul piano musicale invece bisogna fare un discorso un pochino diverso infatti per quanto Salmo abbia parlato di evoluzione con Anna il tipo di evoluzione musicale di Ta Supreme è stato sicuramente più marcato Anna in un certo senso si sarebbe limitata a cantare su delle basi house mentre Ta Supreme ha creato quasi un nuovo modo di intendere la trap e la musica in generale con sono le riguardo Anna vi è poi una frecciatina che gli è stata lanciata da Enzo Dong infatti in Wannabe parte 3 Enzo Dong avrebbe ripreso il ritmo di bendo cambiando il testo e in un certo senso facendo degli apprezzamenti su Anna la cosa però probabilmente si è fermata ad una frecciatina e dunque non si può parlare di vero e proprio dissing chi secondo voi è migliore tra i due scrivete un commento qua sotto esprimendo il vostro pensiero e commentate con il prossimo confronto che vi piacerebbe vedere in uno dei prossimi video di questa rubrica mi aspettavo un vero dissing però comunque ci sta nel senso che comunque parla comunque della diversità dalle due artisti mi piace come content comunque ti fa conoscere meglio entrambi ci sta non è un vero dissing comunque vabbè mi aspettavo un dissing tra loro ma sappiamo che Anna e Tarsuprino non abbiano mai fatto un dissing veramente perché se lo sarei prima a fare la Dillo spero che questo conto vi sia piaciuto è un po' noioso ma no ci sta ci sta vi saluto mettete like condividete ciao duri